L'accusa è di avere perseguitato ripetutamente la ex compagna, non avendo accettato la fine della loro storia. Ed è infatti per il reato di stalking che ogni seno di 50 anni è stato arrestato su disposizione del GIP GGO Marmodica e condotto in carcere dai carabinieri di Caltanissetta. Secondo l'accusa, l'indagato aveva contattato la ex ripetutamente via telefono e attraverso messaggi, non lesinando però insulti anche a sfondo sessuale, minacciando di bruciarle l'auto e anche di ucciderla con l'agido. Lo scorso 11 settembre l'indagato aveva pure detto al padre di voler uccidere la donna e poi era uscito di casa armato di un coltello. In un paio di occasioni, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, l'uomo si era presentato sotto casa della donna e anche della madre di quest'ultima, rivolgendo sempre minacce all'ex fidanzata. Una situazione che è stata denunciata dalla persona offesa ai carabinieri, i quali hanno subito avviato le indagini coordinate dalla procura nissena, che ha chiesto ottenuto l'applicazione della misura cautelare. Ora si attende che l'indagato, difeso dall'avvocato Pietro Pistone, venga interrogato dal GIP Modica.